Ricorrenza del 4 novembre la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Oggi sabato 4 novembre si è celebrata la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale con l'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti che Sancì la resa dell'impero austro-ungarico all'Italia. Dal Ministero dell'Interno intesa con il Ministero della Difesa, Siracusa è stata individuata fra le 35 città italiane dove sono svolti particolari eventi celebrativi, comprendenti cerimonia istituzionale a carattere militare e le manifestazioni denominate caserme aperte con l'apertura di siti ed edifici delle Forze Armate. Stamane il prefetto di Siracusa Raffaella Moscarella, alla presenza delle più alte cariche civili e militari della provincia, ha preseduto la cerimonia commemorativa che ha avuto inizio a mezzogiorno nel piazzale della chiesa di San Tommaso al Pantero di Siracusa. Il 4 novembre quindi Siracusa ha ricordato l'armistizio di Villa Giusti, è entrato in vigore il 4 novembre 1918 che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Con la fine della Prima Guerra Mondiale per onorare i sacrifici dei caduti soldati a difesa della patria, il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del milito ignoto nel sacello dell'altare della patria a Roma. L'alza bandiera con l'esecuzione dell'inno di Mameli a cura del corpo musicale città di Siracusa ha segnato l'avvio della manifestazione celebrativa. Il prefetto Moscarella e il comandante di Mari Sicilia Miraglio Andrea Cottini insieme al sindaco del comune di Siracusa Francesco Italia hanno accompagnato alcuni studenti nella deposizione di una corona ai monumenti ai caduti. Nell'occasione con la partecipazione della comunità studentesca ha avuto luogo il passaggio della bandiera nazionale dall'istituto di istituzione secondaria superiore Nervi Alaimo di Lentini all'istituto di istituzione secondaria superiore Michelangelo Bartolo di Pachino il cui impegno è costante, come si legge nella motivazione, si esprime sempre nell'interpretazione più alta dei valori universali quale imprescindibile base per un sano sviluppo della coscienza civica delle nuove generazioni. Tali sono gli strumenti per una consapevole partecipazione dei cittadini di domani alla vita sociale e politica del Paese. Si è consolidata così la tradizione inaugurata recentemente della consegna della bandiera realizzata dai detenuti della Casa circondareale di Cavadonna e donata alla consulta studentesca provinciale per la simbolica custodia dei valori fondanti dell'unità nazionale. La consegna delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana due insegnate da parte del Prefetto ha rappresentato il riconoscimento del fondamentale contributo dei cittadini offerto alla collettività nazionale.